Mela, si è innamorata di me! Non ci credo, è sicuramente il frutto della tua immaginazione. Sto male. Tieni, fatti un video. Perché? Così ti riprendi. Mi serve un favore? No, mamma. Ti pagherò. Padrona, qual è la mia missione? Sai perché sei sempre scontento? Perché sei troppo realista. Le farò una leggera pressione adesso. Non si preoccupi, è perfettamente naturale. Ma sei stato tu! Lo so, è perfettamente naturale. Come mai non ti prendeva il telefono? Scusa, amore, ero in galleria. Dai, erutta! Ho letto che il vomito di balena vale quanto l'oro. Mi è venuta un'idea. Dai, balena. Mangia questa pizza all'ananas. Perché scureggi sempre? Perché sono un tappeto. Il giocatore 2021 è stato eliminato. Buon anno! Perché mi sali sempre sulla schiena? Perché sono un elefantino. Voi due state copiando? No, prof. Gli sto prestando la gomma. Ah, ok. Scusatemi. Cosa ci fai alla mia festa? Mi sono imbucata. Qui dice che il ghepardo può stare più di otto ore nella stessa posizione. Wow, sono un ghepardo! Professoressa, è facile il compito? Solo per quelli che hanno studiato. Questa è discriminazione. Cosa stai facendo con quel DVD? Mi alleno a fare il regista. Che c'entra? Sto girando un film. Per caso, tua madre è una ladra? No, perché? Perché ha rubato due borse e te le ha messe sotto gli occhi. No, aspetta, com'era? Pa, non ti vedo più uscire con i tuoi amici. Tu usciresti con chi passa la notte a svaliggiare case? No. Neanche loro. Ciao, chi sei? Io sono un canelupo. Canelupo? Sì, mio papà è un cane e mia mamma una lupa. Ah. Ciao, chi sei? Sono una trota salmonata. Trota salmonata? Sì, mia mamma è una trota e mio papà un salmone. Ah. Ciao, chi sei? Sono una zanzara tigre. Sì, vabbè. Mi ricordo il 2021 come se fosse ieri. Sei bellissima. Non dirmi così, che mi fai sciogliere. Che ti ha dato il dottore per calmarti? Un sonnifero. E quante volte lo devi prendere? Ha detto di dartelo quattro volte al giorno. Come mai sei così muscoloso? Perché sono il pan forte. Ma se il participio di asciugare è asciutto. Il participio di prosciugare è prosciutto? Perché fai battute fuori posto? Perché non sono al mio banco. Stavo guardando il film dell'uomo pipistrello. Panino del McDonald's Con la mia game Ci beviamo una Coca-Cola dentro a private Fuck your opinion Non mi interessi Che di certo sei più basso Di l'aglio nel me... Wow! Mi assomigli! Ti interrogo in portoghese. Traducimi Ho mangiato tanta cioccolata E sono dovuto andare in bagno. Cacao Si è sbagliato mangiare di notte. Perché c'è luce nel frigo? Ivo Perché sei così malvagio? Perché sono Cat Ivo Vernicio i capelli a quelli che lo chiedono. Meglio dire coloro. Hai ragione Vernicio i capelli a coloro che lo chiedono. Quanto fa 80 più 7? 87 Allora bevi. Ti piace lavorare nell'ipica? No, non mi sento ferrato. Infatti sono frustato. Non offenderti, ma secondo me hai esagerato con la dieta. Riesco a capire quanta cacca faccio grazie alla bilancia in bagno. Ti pesi prima? E dopo fai la differenza? Wow, anche il tuo sembra un buon metodo. Amore, penso sempre a te. Io mai. Per questo ci compensiamo. Cara, i nostri primi sei figli si assomigliano. Mentre l'ultimo, il settimo, è diverso da tutti gli altri. Dimmi la verità, mi hai forse tradito? Sì, ti ho tradito. E chi è il padre del settimo figlio? Sei tu. Ma se delle automobili ti inviano messaggi vocali, allora sono Audi? Dove andiamo stasera? Non te lo dico, è in dovena. Perché hai scritto camino con la K? Perché i camini hanno la K. Alla gara di nuoto ho vinto per un millesimo. Wow, ce l'hai fatta per l'irrotto della cuffia! Come mai sei vestito da astronauta? Sto andando al Luna Pork. Hai degli occhi stupendi. Grazie, li ho presi da mia mamma. E adesso come fa a vederci? Le scarpe costano 55 euro più 5 di spedizione. No, è troppo, non le prendo. Puoi farmi uno sconto? Posso farti 60 euro con spedizione gratuita. Bene, allora le compro. Ciao, lato AB. Ciao, lato BC. Ti andrebbe di incontrarci? Ok, vediamoci all'angolo. Siete sempre davanti alla TV. Per forza, da dietro non si vede. È vero che a scuola ci mettono tutti ammassati insieme? Sì, ci sono i banchi di pesce. Ecco la tua nuova macchina. Che brutta, ti avevo chiesto un colore perlato. Non un colore perlato. Ho aperto una nuova attività. Faccio fare bungee jumping senza elastico. Come sta andando? Nessuno si è mai lamentato. Senti anche tu uno strano odore di... Di carote. Salve, il colloquio dove si trova? Lo faremo via Zoom. E dove si trova via Zoom? So Fanny. So Kenny, piacere. Come fai a essere così alta? Perché sono una tassa italiana. La mia ragazza mi ha mollato mentre bevevo una verna. Ti ha lasciato con l'amaro in bocca. Mi presteresti quel magazine? No, devo finire di guardarlo per la seconda volta. Due volte? Perché? È una rivista. Chi sei? Sono l'orso Bruno. Non è vero, sei un orso polare. Sì, ma mi chiamo Bruno. Non funziona la stampante. È accesa? Sì. Che luci sono accese? Quella del bagno e quella del salotto. Ci vediamo alle 18? No, devo fare ripetizioni con mio nipote. Tua nipote di 7 anni? Ma non era bravo a scuola? Sì, infatti. Le fa a me le ripetizioni. Come fai a volare? Lavoro a Luna Park. E cosa c'entra? Sono un otto volante. Cosa accade il 14 luglio 1789 a Parigi? I rivoluzionari avevano mal di testa. Cosa? Eh sì, quindi c'è stata la presa della pastiglia. Chi ha fatto fuori Kenny? L'elfo o la renna? Io non sono sdato, sono raffreddato. Kenny ha scritto il nome del killer in quel foglio, ma qualcuno ha strappato la prima parte. Aiuto, se faccio rumore mi farà fuori. Se io avrei. Avessi! Vorrei almeno una gioia. Questo sono io. E questi sono i miei doveri. Ehi, hai le ascelle sporche. Dove? Bravo, abbiamo un volontario. Ciao, come vanno le cose? Alla grande, grazie. Cosa fai di bello? Sto facendo la cacca. Se vuoi vengo lì da te. Non mi sembra il caso. Scusami, va bene se ti richiamo? C'è uno al cesso che risponde a tutto quello che dico. Prof, ci ha riportato le nostre verifiche? Mi dispiace, dovevo correggere quelle delle altre classi. Voi avete fatto i compiti? Mi dispiace, abbiamo dovuto fare quelli degli altri prof. Wow, guarda quanto è grossa la luna. Da domani mi metto a dieta. Ho litigato con Mario perché ho scoperto che mi hai tradito con lui. Se continui con questo atteggiamento, rimarrai senza amici. Cosa ci fai lassù? Sei stato tu a dirmi di dormire, supino. Questa festa fa schifo. Me ne torno a casa. Andiamo al parco? Mi dispiace, mia mamma non vuole che io giochi con il cibo. E tu chi saresti? Sono un uovo in camicia. Pronto, vorrei una pizza. La vuole Margherita? No, la voglio io. Io e te staremo sempre insieme. Sei bella. Dimmi qualcosa di più. Sette bella. Devo andare in tribunale. Perché? Vado a deporre. Non potevo più lavorare per loro dopo quello che mi hanno detto. Cosa ti hanno detto? Sei licenziato. Globulo bianco, hai visto piastrina? No, è sparita dalla circolazione. Scusi, ma il salame lo vorrei più spesso. Allora vieni tutti i giorni. Toc toc. Chi è? La porta. Finalmente ho trovato un lavoro di cultura. Wow, quale? Caccio i topi della biblioteca. Ma se chi beve alcolici è alcolizzato. Chi beve la fanta è fantastico. Ti voglio bene come a mio fratello. Ma tu sei figlia unica. Esatto. Tre biglietti per Roma. Mi dispiace, non posso. Come mai? Perché in treno. Hanno arrestato il capitano. Per davvero? No, per Findus. Cameriere, cos'è questo schifo nella minestra? È il suo riflesso, signore. Vuoi un po' di gelato? Eh no, mi dispiace. Ho il diabete. Papà, cos'è un alcolizzato? Li vedi quei quattro alberi? Un alcolizzato ne vede otto. Ma papà, sono due. Qual è la cosa che ami di più? La pizza. Intendo qualcosa non da mangiare. Il profumo della pizza calda. Ti vedo spenta, come vat? Male, non sono più quella di una volt. Che pizza stai mangiando? Pizza con provola e speck. Tieni, provola. È spettacolare. Ti odio. Ciao amici, io sono una torta. Mi chiamo Margherita perché da piccola mi si è appoggiata una margherita in testa. Mi chiamo Rosa perché da piccola mi si è appoggiata una rosa in testa. Mi chiamo Viola perché da piccola mi si è appoggiata una viola in testa. Piacere, Pino. Ciao, Globulo Rosso. Perché non usciamo questa sera? No, grazie. Perché? Perché non sono in vena. Devo assentarmi un attimo. Ti prego, non dirlo. Torno subito. Sai come si dice vedere in inglese? Tu sì? Io no, altrimenti non te lo avrei chiesto. Sto passando un brutto periodo. Lasciami perdere. Papà, ho una ragazza immaginaria. Meriti di meglio. Grazie, papà. Stavo parlando alla tua ragazza. Quando ho la tosse. Io. È solo tosse. Mamma. È solo tosse. Dottore. È solo tosse. Google. Stai per morire. Ecco la sua pizza. Grazie. L'hai presa a sua ordinazione? Ti senti dominato dalla tua fidanzata? No, non si sente dominato. Sei sempre il solito immaturo. Quanti anni hai? Papà, ne ho tredici. Io, alla tua età, ne avevo quattordici. Oggi mi sento a pezzi. Non so se rendo l'IKEA. Io che provo a mangiare sano. Attacciamolo di sorpresa. Grazie. 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 Grazie a tutti